Ciao, ti do benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volteam per quanto riguarda il DAX. Ieri ho fatto un po' di casino, ho invertito, ho fatto Tesla e petrolio, dovevo fare domeniche, ero straconvinto fosse domenico. Comunque, via, dai. Bando alle ciance, come si dice, partiamo con la sigla del canale, breve aggiornamento come al solito dei risultati in corso del mese di febbraio e poi analisi. Cercherò di stare in tutto nei 5 minuti. A tra poco. Non ho fatto partire l'analisi. C'era la sigla, vabbè, non muore nessuno. Se è la prima volta che stai guardando la mia analisi, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Sono Paolo Peisino, sono un trader dal 2007 e di questi 14 anni, gli ultimi 10 li ho passati a studiare e approfondire l'analisi ciclica. Ti invito a unirti al canale Telegram gratuito, rimarai aggiornato con la mia operatività e riceverai anche dei veri e propri setup operativi gratuiti, che sono sostanzialmente una sorta di anteprima di quello che in realtà puoi trovare sul canale Telegram Premium, quindi per gli iscritti a chi si iscrive ai segnali. Tipo giovedì, perché venerdì non ho fatto nulla, ho dato un setup dove dicevo possibile setup long a chiusura candela H1, però aspettate, faccio così perché sennò non si vede, ok? Chiusura H1 e poi questo è quello che è accaduto, ovviamente, se sei sui mercati lo sai, partito a rialzo, sono entrato e il mercato non ha fatto neanche un punto questo giro contro, non che sia sempre così chiaramente, 52 punti io chiuso, in realtà il mercato è andato fino a target, ma visto che erano le 19.25 ho pensato bene che potevo anche farmi i cavoli miei e smettere di stare davanti al PC. L'ultimo setup che ho messo è quello riguardo il petrolio multi day, vediamo se con l'apertura dei mercati il mercato appunto prenderà la via del rialzo o se invece, invece no, chiaramente bisognerà guardare l'analisi, ok, la video analisi per capire quando e dove entrare su il mercato, quindi un bel servizio anche quello gratuito. Ovviamente il servizio segnale intraday sul future è più completo perché riceverai segnale sul DAX, NASDAQ, S&P, D&J Gold e petrolio, quindi riceverai sia più setup operativi che ti anticipano quello che sarà il probabile segnale, su quale strumento e ovviamente l'analisi è anche molto ma molto più dettagliata perché c'è anche tutta l'analisi su base volumetrica, non il solito volume profile basso dove ci sono due livelli, ma utilizzo un'analisi molto approfondita a livello volumetrico, ovviamente avrai il vero e proprio segnale d'ingresso, ok, con il segnale, lo stop e la gestione di un altro trading, ma prima ci sarà un alert, quindi un alert che ti dirà attenzione, possibile long, possibile short con lo strumento e lo stop loss, quindi saprai per tempo quando e se arriverà chiaramente un segnale. Durante il segnale poi c'è tutto il suo, la sua gestione che comunico di volta in volta, man mano ci sono dei cambiamenti come stop loss in movimento, e take profit dove metteremo, training stop, chiusura anticipata e quant'altro. Direi di partire con l'analisi, prima però, mentre facciamo l'analisi, chiaramente ti invito anche a guardare l'indicatore Volta, che è lo strumento che mi vedi a utilizzare per le mie analisi quotidiane. Performance dei segnali, il mese sta andando molto bene, 46 punti sul DAX, 96 sul NASDAQ, 3 punti sul Dow Jones per il break even, 60 punti invece su il gold, e da un punto di vista economico, lo possiamo vedere qua, sono alla cifra di, questo è un conto da 50k, 535 euro sia l'1%, 1% io sono di quei traders che quando fanno l'1-2% sono contenti, anche perché sono performance fattibili, non è fattibile 10, 20, 30, 50% come spesso e volentieri si legge mai mai me sui social. Allora, DAX, H4, H4 abbiamo un massimo previsto, andiamo ad aggiornare la data, previsto per il 18, più o meno febbraio 2024, ovviamente oggi è il 18, quindi questo 18 diventerà un 19, normale che sia così, perché verrà, quando aprirà il mercato, si cancelleranno, cioè si sposterà di due giorni il grafico a sinistra. Che cosa dobbiamo aspettarci? Il mercato è ancora sopra le medie immobili cicliche, su questo dubbi non ce ne sono, voglio solo vedere se c'è qualche aggiornamento di trendline, niente, ha rotto la trendline del ciclo a 5 giorni, quindi confermando questa fase di ribasso del ciclo a 10 giorni. Il mercato in realtà è andato a fare il target di 17173, questo è il cash, come puoi vedere lo ha superato di, era 73 e è arrivato a 95, quindi parliamo di 20 punti, poi è sceso, quindi anche la sua estensione massima l'ha già fatta. Ovviamente per poter entrare e cercare un ribasso, quindi seguendo l'analisi ciclica, dovremmo avere una conferma, conferma tecnica. Al momento il livello di conferma è lontanissimo, perché se lo andiamo a vedere è questo, quindi parliamo di un livello veramente molto molto lontano. Chiaramente aspettare che il mercato si faccia la bellezza di 296 punti prima di prendere un'opportunità ribassista è abbastanza esagerato. Quindi per me già un bel livello sarà tutto questo blocco, tutto questo blocco di area. Accendo 3D in via un attimo, non capivo perché non si accendeva, non avevo cliccato il pulsante. Allora siamo sul DAX H4, vi dicevo che l'area, secondo me la prima area che potremmo valutare per una componente ribassista, sarà chiaramente la rottura di un primo livello interessante. Per me il primo livello che può avere una mezza logica sarà ovviamente 17.108, però non sarà sufficiente questo. Dovremmo attendere la rottura della 3 line del ciclo a 5 giorni, che obiettivamente messa qua non è che abbia più un grande, non sto dentro i 5 minuti ve lo dico, una grande logica, anche perché è nato un altro ciclo a 5 giorni, che però ha il minimo più basso, quindi andiamo a cancellare queste 3 line, ops, che non serve più a nulla. Ok, lo vado a cancellare anche qua e quindi rimane gioco forza, ovviamente solo ed esclusivamente parliamo di livelli. Tutto questo è un blocco ad alto volume, mercato totalmente laterale, quindi sarà comunque difficile tradare qua dentro. E' ovvio che come dicevo l'uscita sarà qua. Ora vediamo che qui abbiamo un disinteresse totale, abbiamo avuto un disinteresse totale da parte del mercato, soprattutto a questa fase del ZIS che possiamo andare anche a estendere naturalmente fino a qua, ok. E lo vediamo che in questo caso abbiamo un bel livello qui, però io vado ad aggiungere naturalmente anche in questo caso un profile, cerchiamo di capire quale che può essere un'area interessante, ma è esattamente quella che avevo detto poc'anzi. Quindi tutto questo è un bel blocco di volume e c'è un bel livello. Quindi cosa facciamo? Personalmente attenderei la rottura di 17.108, il ritest, magari un rimbalzo anche su Waterlandia, circa 5 giorni ribassista, il ritest poi del livello, allora sì che potremo andare a prendere una componente di ribasso e la data, vediamo, la data c'è, perché la data è tutto sommato corretta per quanto riguarda i 5 giorni, invece in 10 giorni parliamo di domani. Quindi stiamo a vedere tra domani e dopo domani cosa farà il mercato, quindi attendiamo assolutamente rottura del supporto, ritest e poi fase di ribasso. Chiedo scusa se ci ho messo 7 minuti, ma va bene lo stesso. Ciao, ci vediamo tra poco con l'analisi del MIB.